Ciao da Marcello, esperto di scrittura persuasiva e oggi analizziamo insieme una vecchia pubblicità della Good Year. Una pubblicità di questo pneumatico chiamato Good Year G8, che ha degli spunti molto interessanti che possiamo applicare anche ai nostri advertori all'attuale e alle nostre landing page attuali, in generale anche alla formulazione del marketing, del design di un prodotto che può avere successo a giorni nostri, perché è assolutamente possibile e fattibile trasportare le tecniche che venivano utilizzate prima ai giorni attuali. Questo perché le tecniche persuasive non cambiano, sfruttano quei bug del cervello, quelle predisposizioni del cervello, che ci siamo trascinati nella storia dell'essere umano e continuiamo a trascinarci e sono sempre le stesse. Quindi andiamo a vedere, ad analizzare che tecniche sfrutta questa pubblicità. Innanzitutto la cosa da notare è che hanno suddiviso le due pagine della rivista in fasce, ogni fascia ha un'immagine, ogni pagina ha tre fasce, quindi in totale sono sei fasce, che inizialmente mi danno un'impressione di più contenuto all'interno dello stesso spazio, come se avessero creato più spazio nelle due pagine. Quindi andiamo a vedere un po' come comincia. La prima fascia fa vedere una cordicella che tiene una catena, una catena che si spezza e dice questo cordoncino è più resistente dell'acciaio, è chiamato cord 3T, cord 3T. Quindi ci presentano una proprietà, un elemento che è questo cordoncino che ha una certa caratteristica che è più resistente addirittura dell'acciaio. Continuiamo a leggere. È stato abbinato ad un nuovo disegno di battistrada a spalle rotondate. Qui fanno vedere un battistrada che dice spalla rotondata, che è una forma particolare appunto a forma di spalla. Quindi cominciano a presentare in sostanza due caratteristiche uniche, due tecnologie di quelle che poi formeranno il battistrada, il pneumatico, l'opneumatico che andranno a vendere, il Goodyear G8. Quindi continuando a leggere per ottenere un migliore e più sicuro tipo di pneumatico, il Goodyear G8. Ok, quindi hanno presentato quello che è il prodotto partendo dalle due caratteristiche uniche, proprietarie dell'azienda, due novità che sono state applicate alla tecnologia di questo prodotto. Il cord 3T protegge contro gli scoppi e combatte il peggior nemico dei pneumatici, il calore. Quindi adesso sono passati a descrivere il beneficio di questa nuova tecnologia, questo nuovo materiale, questo cordoncino chiamato 3T. Il beneficio è che protegge contro gli scoppi, quindi un argomento power quello degli scoppi, perché se scoppia lo pneumatico mentre stai correndo con la macchina c'è il rischio che perdi la vita. E combatte il peggior nemico dei pneumatici, il calore. Vediamo come continua. Le spalle arrotondate consentono una superiore tenuta in curva ed una guida silenziosa. Quindi abbiamo parlato del cordoncino e del suo beneficio. Adesso riprende la spalla arrotondata e dice che la spalla arrotondata consente una superiore tenuta in curva ed una guida silenziosa. Quindi parla del beneficio di quest'altra tecnologia che è quella della spalla arrotondata. I pneumatici Goodyear G8 danno fiducia a chi guida e non costano di più dei normali pneumatici. Quindi qui diciamo che danno il colpo di grazia perché hanno presentato due caratteristiche proprietarie uniche di questo prodotto che lo rendono a quanto pare più sicuro rispetto alla concorrenza. E poi alla fine ti dicono il prezzo è assolutamente identico a quello dei normali pneumatici. Quindi non c'è alcun motivo per cui tu non dovresti scegliere Goodyear. Vediamo come continua. Per la vostra sicurezza nessun pneumatico al mondo è costruito come il Goodyear G8. Il pneumatico G8 è stato appositamente studiato dalla Goodyear per garantirvi sicurezza. In curva le sue spalle arrotondate consentono un'aderenza massima e quindi una tenuta di strada veramente eccezionale. Il G8 è costruito con Cord 3T, il cordoncino più resistente al mondo, è più forte dell'acciaio ed è un'esclusiva della Goodyear. Il pneumatico Goodyear G8 non strida in curva, vi assicura una guida silenziosa e vi dà una sensazione di sicurezza che vi rende padroni della strada e della vostra vettura. Bene, cosa hanno fatto qui? Hanno preso quello che era il beneficio del cordoncino e quello che era il beneficio del disegno di battistrada a spalle arrotondate e sono andati oltre ai benefici primari, che sono quelli della tenuta di strada, che sono quelli che non scoppia, sono andati ad un secondo livello. Questa è una cosa che dobbiamo fare noi come copywriter andando a ricercare quello che è un beneficio ultimo, cioè la tenuta di strada è ok, è un beneficio per l'auto, ma alla fine il beneficio per chi la guida è che ci rende padroni della strada e della nostra vettura. Quindi un po' come se prima non lo fossimo stati. Il Goodyear G8 vi consente di risparmiare perché non costa di più di un normale pneumatico e vi assicura un più lungo chilometraggio. Quindi il doppio vantaggio è il costo uguale e addirittura ha un chilometraggio più lungo di quelli classici. Quindi quando richiedete i pneumatici, qui si arriva alla call to action, alla chiamata all'azione, quando richiedete i pneumatici per la vostra vettura chiedete Goodyear G8. Quindi siccome in quel periodo non c'era una vendita online via internet, allora quello che potevano fare è dire quando sarete al negozio e starete per scegliere il vostro pneumatico, dovete dire Goodyear G8, richiedete questi pneumatici. Quindi ricapitolando quali sono le tecniche che vengono sfruttate in questa pubblicità. Innanzitutto la tecnica dell'ingrediente segreto, potremmo dire, della tecnologia proprietaria. In questo caso sono due tecnologie proprietarie. Quella del cordoncino, cord 3T, è quella del disegno di battistrade a spalle arrotondate, che permette alla fine di avere una sicurezza ulteriore alla guida. Quindi tutta la pubblicità ruota attorno ad un tema principale, che è quello della maggiore sicurezza in strada. E il target qual è? Lo vediamo da questa fotografia. Il target è la famiglia classica, quindi mamma, papà e due figli stanno andando, a quanto pare, in vacanza da qualche parte, perché il bambino tiene la mano fuori dal finestrino, si gode il vento, quindi probabilmente stanno andando a divertirsi in vacanza e quindi bisogna, la preoccupazione principale è quella della sicurezza per il capofamiglia. E quindi tutto ruota attorno a questo. La spiegazione razionale della sicurezza è il cordoncino che non scoppia, la spalla arrotondata che permette di tenere meglio la strada. E alla fine il colpo di grazia lo danno col fatto che questi pneumatici non costano di più dei normali pneumatici e durano addirittura di più e danno una call to action che dice quando richiedete i pneumatici per la vostra vettura chiedete Goodyear G8. Quindi sostanzialmente la pubblicità è completa ed è un argomento di vendita perfetto per convincere una persona a comprare questi pneumatici e non quelli della concorrenza. Bene, per questa analisi di video è tutto. Vi ringrazio, ti ringrazio per aver guardato questo video. Nel mio canale troverai altri video, spero interessanti, così come lo è stato questo qui. Lascia mi piace se ti è piaciuto questo video ed iscriviti al mio canale per ricevere gli aggiornamenti dei prossimi video. Ciao da Marcello! Grazie a tutti!